La Giunta regionale ha ripartito le economie realizzate in base alla legge regionale numero 2 del 2018 in materia di sport ed impiantistica sportiva, che prevedono un aumento di fondi disponibili pari a 250.000 euro. Il totale dei contributi destinati a enti di promozione sportiva, associazioni, società e coni ammonta così a 700.000 euro, così come disposto dalla legge regionale 20 dello scorso 31 luglio. Oltre ad un aumento del fondo destinato alla promozione e al sostegno all'attività sportiva regionale, circostanza che consentirà di evadere tutte le domande presentate nell'anno 2019 che rispettino i requisiti di legge, verrà anche aumentata la soglia minima di ciascun contributo.